Cosa ci fanno migliaia di pesci serra vicino alla costa? Ci troviamo nel mare Adriatico, in alcuni periodi è possibile osservare questi banchi enormi di pesci serra. Sembrano davvero invincibili, però c'è un predatore più grande di loro che li caccia e li mangia. Si tratta del tonno rosso, che si avvicina addirittura a pochi metri dalla costa per cacciare i pesci serra.